Domenica 8 ottobre presso il Centro Eventi Agora di Piazzano di Atessa, il Partito Democratico della provincia di Chieti ha organizzato un incontro dal titolo L'Abruzzo e la Val di Sangro tra presente e futuro. All'incontro ha partecipato Luciano D'Amico, candidato presidente della regione Abruzzo con la coalizione Abruzzo Insieme. D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo ed ex presidente di Tua, è lo sfidante ufficiale del governatore in carica Marco Marsilio ed è riuscito ad aggregare tutte le principali forze dello schieramento di centro-sinistra. Prima di pubblicare il video integrale dell'incontro abbiamo intercettato lo stesso D'Amico e il sindaco di Paglieta Ernesto Graziani tra i principali organizzatori dell'evento. Sindaco Ernesto Graziani ci troviamo ad Agorà presso Piazzano di Atessa, come mai si svolge questo convegno? Io ho ritenuto di organizzare questo convegno per senso di responsabilità e per amore verso la mia terra, perché credo che non si possa rimanere inerti senza far niente di fronte ad un arretramento della situazione economica e sociale della mia regione. Di conseguenza ho ritenuto che la gente debba essere informata, debba sapere quello che sta accadendo. Di fronte ad un'occupazione mediatica di tipo militare, sono attraverso incontri come questi che deve essere e verrà ristabilita la verità. Luciano D'Amico, quali sono le motivazioni che l'hanno indotta alla prossima candidatura per la carica di governatore della regione Abruzzo? Credo che qualsiasi abruzzese debba impegnarsi al massimo per assicurare alla nostra regione una prospettiva di crescita e di sviluppo, una prospettiva in cui tutti i giovani abruzzesi possano realizzare il proprio progetto di vita. Dobbiamo farlo e personalmente lo farò con grandissimo entusiasmo. Dobbiamo farlo e personalmente lo farò con grandissimo entusiasmo. Dobbiamo farlo.